Ciao, sono Ilaria Stagni, sono Fabrizio Pucci, sono Alessandra Corrompai, sono Stefano Benassi, sono Domitila D'Amico, io sono Stefano Mondini, sono Mirko Cannella, sono la voce di Hugh Jackman, Jennifer Lopez, Pugico, Juliette Binoche, Patrick Dempsey e Christoph Waltz, Harley Quinn e Black Widow, Dr. Weber di Grey's Anatomy, di Rio della Casa di Carta. In questo momento di emergenza tutti possono essere utili. Io ci metto la voce. Sono una voce per lo Spallanzani e sostengo la ricerca per il Covid-19 e le attività assistenziali. Io dono e resto a casa. Dona anche tu.